Ancora una stesa a Napoli nella tarda serata di ieri nel quartiere di San Giovanni a Teduccio i gnoti hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di un'automobile parcheggiata in via Bernardo 40. Sono stati individuati e sequestrati dalla polizia che è intervenuta sul posto 14 Bostoli calibro 9x21. La macchina, una Fiat Panda, è risultata essere intestata ad una società di noleggio. Sono in corso ancora le indagini della polizia.